musica 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 lol uno è acquittato adesso voglio provarlo top però trovo top vediamo come può essere top proviamo così non so da 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 solo q oppure da cosa solo q non sarebbe male perchè lo buildi full a d e te ne freghi altamente fai come faresti un assassin mmm voglio provare top come funziona perchè non lo so secondo me può funzionare top non so non non no non no no tutto no 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 No, volevo provare coltello Senza teleport Sono curioso di vedere come può funzionare top Con i mini vlog Allora, Devil Within Sì, lo farò domani mattina a registrare E quindi lo metterò su questo weekend I vlog La cosa è che adesso i vlog sono un attimo in pausa Finché i mini vlog Finché non faccio Finché non faccio quelli Delle team comp A momento sto anche lavorando a quelli Della giungla, cioè come startare E come fare tutti i vari campi Per ogni singola Ogni singola persona What? What? Penso che No, non può essere What? Penso che ci sia What? C'è qualcosa che non... What? No, no, no 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 Porca droga Vi faccio vedere perché sto facendo così No, no, no Io ste co... C'è Stefano Martinelli Step997 Ti ringrazio per la donazione Che purtroppo non so perché non si vede a schermo Mi fa girare veramente il cazzo sta cosa Perché la notifica c'è Adesso mi faccio Perfetto Come cavolo si fa? Non si può Oh mio Dio Oddio Mi ha donato Mi ha donato 50 euro Mi ha donato 50 euro Porca puttana Ti ringrazio Stefano Martinelli Però non dovevi Sono tantissimi soldi Cazzo Bella amico Ti ringrazio per davvero Non so cosa dire No, aspetta Vi metto la top donazione qua anche Allora Testo Compatibile Browse Un secondo che ve lo trovo All time top donator User of line Cioè Era Già prima Aveva Aveva messo Questa qua sono la somma di quelli che ha fatto Tra le donazioni durante lo streaming da 38 ore E 50 euro adesso Wow GG GG Porca troia Viene Lei con 50 euro in più Oddio Grazie Comunque Davvero Sapete cosa? Prendi Non ci si perisce quant'è Non ho fatto niente E' stato tanto coso Che Marti e Stefano Che è tipo Troppo good guy Oh cacchio Ma settare è difficile Senza Senza avere Cosa è difficile A stittare Però davvero Sì adesso alzo la chat Scusate Non so perché non si è uscita la notifica Mi dispiace Davvero Mi sento in colpa Mi sento esce la notifica La cosa che è un sacco di sustaining lane Grazie alla passiva Che ti rigeneri vita Oh c'è una cosa di grande Che se la notifica Si è rifiutata di apparire LOL Sì laggo 180 Perché sono sul PBE Sto giocando sul PBE Quindi è normale Grazie Dark Destroyer Comunque non so perché Sono un livello indietro Wow 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 Oh 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 140 140 Sto morto Non riesco a vedere Quanta lag c'ho Oh mio dio Qua ho filato malissimo Ho tipo pensato di essere fuori arraggiatore E ho detto boh dai posso stare tranquillo E invece Le finte risate Perché finte Vedi sì è vero Sono emozionato per l'attenzione Adesso questo è per scherzare Prove no mi Sono stato stupido io Oh Zeus No Perché No Lascia bien Dale No No Sì Ti vedo eh Sì puoi colpire in mente, stai facendo il tunnel Non fa tutto sto gran danno magico, eh la Q LOL è vero Procca sulla ulti di Yasuo, è vero LOL È stato una gang, oh mamma mia I tunnel durano 10 minuti Che bella sta ult, è troppo bella la ult Comunque top fa... secondo me fa troppa fatica top Con la E hai un sacco di arrasso una volta che sei a 100 di rage Che bella Dai come Eh aveva tipo un millisecondo Per Oh mio dio Psicrophobic Grazie per il subscribe Psicrophobic Bella Non so cosa sia successo con la notifica Tipo molto what the fuck Perché ha usato uno stile vecchio Devi subscribe Ho capito questa cosa a caso Cose a caso succedono oggi signori Allora Subscription alert enabled Salve settaggi Ok Non ho ancora la ulti quindi dovrò tornare a piedi in top E' tutto un bug stasera Comunque grazie Psicrophobic Benvenuti alla famiglia di subscriber GG Oh shit 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 Sì 5 dollari al mese sì L'abbonamento da 5 dollari al mese Eh lui adesso ha Come si chiama Mi sfugge il nome Rado Vage Screening up Yeah On solo The class Oh — Hmm. In teoria se sto fermo immobile Non mi vede Morto Sì In counterplay E stare immobile Come fosse un cazzo Questo è fenomenale Tipo non ti vede Non può vederti se sei immobile Pazzesco Io pensavo Voi dai ti vedrà E boom Torno dopo Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Sì Può grabbarti Blitzcrank quando vai all'inizio La E scala con la D e fa danni rispetto alla Fury Fino al doppio 5, 4, 3, 2, 1 What? Ok adesso sappiamo Se qualcuno ti distrugge il tunnel non ti ci puoi detrasportare sopra Però il cooldown non viene Non va a puttane il cooldown Loll Pensavo avesse la passiva No comunque Top contro un Bruiser Bruiserone Non riesce a farci un cazzo Avesse una pulito Ah ok No Sono il tunnel della No 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 Eh, lui ha i mobility Sì, merda Col cazzo che io torno top Al momento What the fuck What the fuck La playlist l'ho cambiata Adesso uso quella di spot Fai No Eh, anche questi qua nel bush qui sono comodi In top sono molto più utilizzabili a confronto con le altre lane, di sicuro Hmm Oh, di cosa vado a farmi una 3D Hmm What the fuck? Eh, vabbè, sono morto ormai Morto per morto No, ho ben capito come può fermarmi dal fare il tunnel mentre io lo sto facendo Però va bene È andata così Mi metteranno l'offerta delle cuffie, non lo so Battle cast rec Eh, non so quando lo mettono su lol Comunque penso per dicembre Dicembre lo metteranno Non c'è, non ci dovrebbe essere altro in questa patch, quindi No, la cosa è che se prendi danno Se prendi danno qualcosa con il Prendi danno mentre fai la ulti Muo- cioè, viene annullata Subito 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 Comunque penso Posto Sì, sì, sì. Oh mia, Sigrid è troppo in vantaggio ormai Dopo questo stacco Ciao Ravanelli Fresh, bella La Q di Rexhaia è la Black Dance E con i livelli Per aumentare il regen della W Sì, potrei fare una Visage Avevo intenzione di fare Magic Race comunque adesso ormai E' Mardoch che fa rumori E' Mardoch che fa rumori Forse sono io che laggo un po' troppo Però mi sa che non faccio questo danno con la Trinity Io me ne vado anche bravamente La distrutta, eh la distrutta, merda Comunque è bellissima la meccanica dei Toon Chiunque l'ho diventato è un genio Oh, well played, ben pensato, ben pensato Eh, adesso lui è nato full time, quindi Non è che non riesco a proccare la Trinity È che non puoi farlo perché vieni kaitato a merda Non avendo un vero e proprio crowd control dopo la ulti O bursti di combo, non fai niente No, c'aveva anche la zonia Cazzo Oh, fuck Non mi sentavo la zonia Stupida zonia Eh, quel single mi sa di tanti problemi Ho preso l'assist Merda Merda Avevo già detto che funzionava bene in sinergia Orianna Col champion No La ulti ha un enorme cooldown 180 secondi a livello 1 150 a livello 2 120 a livello 3 Quanti non Onestamente non so come pensano di Potrebbe essere forte sta cosa Cioè non avendo danno Boh Comunque sembra che da studio juggler funzioni molto meglio Quanti non so come pensano di Quanti non so come pensano di Quanti non so come pensano di No 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 Grazie. Cazzo, ero convinto di possedere... Ok E questa è la cosa Dà la sensazione di non riuscire a stare attaccato al bersaglio Cioè, non avendo uno slow, vero e proprio Dipende totalmente dai crowd control di qualcun altro Ha solo il knock up E' quello il problema Se avessi un altro crowd control non sarebbe un problema Sarebbe un c'è più forte Così Boh Fa tantissima fatica a stare addosso a un target Troppa fatica Wow What the fuck Questa è un po' No, non è te vorti, ma se che non è andato Uh, guarda Tunnel Se ne facessi il gun per girare il problema che lo controllo Troppo mano ha sprecato A volte per questo mi sa che Lo vogliono mettere jungle Così che snowball le sue lane prima Oh mio dio la guarda il poro È bellissima Hmm Eh, adesso infatti volevo buildare un'altra No, la seconda Q non è un slow Pensavo di sì, invece no Infatti se la Q slowasse Probabilmente la Q in versione sottoterra Probabilmente sarebbe anche figo Cioè, sarebbe perfetto Avrebbe tutto quello che gli serve per fare il suo lavoro Così ha proprio poche cose Non è neanche che c'è Il problema è che non eccelle neanche a una Cioè, è divertente Non lo nego, eh È divertentissimo Però non eccelle a nessuna cosa Non eccelle a danno Non eccelle a crowd control Non eccelle a mobilità Cioè, puoi fare per gli engage Tipo quelli sneaky Come dicevo prima Attraverso l'uso del tunnel Però... E il flash Però non... Non è paragonabile ad altri champion Che fanno le stesse cose Che fanno la Grazie a tutti. No, dopo ho stracattato. Con questo stacco. Mi serve un last whisper comunque. Comunque l'ultima ho usata una volta, penso, in tutta la partita. No, dopo ho stracattato, penso, in tutta la partita. No, dopo ho stracattato, penso, in tutta la partita. No, dopo ho stracattato, penso, in tutta la partita. Ah l'ho ucciso Dov'è Nami? Sì dobbiamo pushare ora Eh la prima volta che ho usato uno ulti e abbiamo vinto il fight A caso Non è che non è worth come champ Top mi sa che non ne vale proprio la pena Ma proprio zero Cioè Magari puoi farci dei bait raid Ma la cosa è che Come fai ad essere utile al tuo team? Non sei né un tank Né un assassin Ah Nami ha problemi col client Che cazzo Ma quello non posso farci niente Ah guarda guarda Eh Full ad fa i danni La cosa è che non hai danni garantiti Cioè se magari sbagli una cosa Sei fregato Allora Eh il drago non l'abbiamo Non abbiamo neanche il timer Quanto è bella sta ulti Oh wow Wow, Orianna non aveva ancora usato la ulti Orianna non aveva ancora usato la ulti Wow Wow Orianna non aveva usato la ulti GG Ma sarei dovuto andare su Orianna, non su... Minion Winions No, no, sono più forti le torri eh Va bene Le torri sono più forti però eh Sciences Qui La campanita Issuto E E Abbiamo salvato la base World Ok no i danni li faccio Ok scherzavo sulla storia dei danni Non faccio danni Mi pento di aver detto questo Mille di Q What mate Bah Minchia Voglio vedere quanti danni io ho fatto Giusto per curiosità Andiamo un po' Porca puttada No i game di danni ne fa Porca troia Mi hai fatto mille di Q E mille di basic attack Trinity Minchia Minchia Comunque Allora quindi Ricapitolando Oltre al fatto che ho detto una strozzata Quanto pare sul danno Perché ne faccio molto più di quello che mi aspettavo In generale Non è male come champion La cosa è che Devi ragionare estremamente tanto Sul posizionamento dei tunnel Per quello anche L'hanno messo come jungler Perché I tunnel li puoi posizionare dove vuoi Come jungler Sulla mappa Da top laner Puoi posizionarli top Per tornare velocemente Basta Tipo Basta Sono finiti qua i posizionamenti dei tunnel E Quindi In pratica Quando lo usi top Lo usi A tipo Il 60% Perché puoi farmare Tantissimo E ottieni tantissimi Molto più velocemente Di quanto Le ottieni a jungler Però la cosa è che Non usi tutto il suo kit Top Non lo so Secondo me Forse è il più forte jungler Mi sa Non fa male i 3 top Però Vedremo Quando uscirà Allora Io ragazzi Direi di staccare qua Ci vediamo Ci vediamo Domani Pomeriggio Allora